buongiorno colleghi mi rivolgo soprattutto ai colleghi di quarte e quinte classi come sapete domani alle 8 e 30 ci sarà l'evento smart future academy e ci collegheremo al link youtube che ci è stato gentilmente fornito via mail e molti di voi mi chiedevano come fare a monitorare che in effetti i ragazzi partecipino a questo evento allora è chiaro che dovremo connetterci sempre con mediante la piattaforma wiskool ed entreremo nella live c'è chi si connette mediante zoom chi mediante google meet ma non avrà importanza la diciamo la piattaforma di videoconferenza la cosa importante è che preventivamente cioè prima di entrare in wiskool voi abbiate aperto youtube ed inserito il link come potete vedere alla videoconferenza vedete questo basta copiarlo incollarlo dalla mail che vi è stata mandata bene una volta che avete aperto questa finestra la parteggia nella barra delle applicazioni qui sotto e andate a lanciare wiskool quindi partirà la vostra piattaforma interpellerete la vostra classe in live come al solito come quando effettuate la lezione in live e vi ritroverete in una situazione come la seguente a questo punto che cosa dovrò fare dovrò effettuare una condivisione dello schermo quindi dovrò andare qui ad alla diciamo a questo pulsante però occorrerà fare attenzione a condividere non lo schermo ma il tab cioè praticamente la finestra che in questo momento è parcheggiata nella barra delle applicazioni quindi come vedete ci sarà una piccola miniatura e dovete avere però la cura di andare a cliccare su questo flag condividi suono altrimenti come potete vedere dalla descrizione questa opzione e si deve cliccare se si desidera che altri sentano i suoni del computer ovviamente una volta che effettuerò la condivisione cliccando su condividi tutto ciò che ci sarà sul nostro eccolo qua in questo momento è in condivisione ma ovviamente vedrò in questa finestra tutti i partecipanti alla sessione è preferibile che i ragazzi mantengano sempre spento il loro microfono per non interferire con gli altri partecipanti ma che abbiano la webcam accesa per un riscontro della partecipazione tutto qua al termine della dell'evento potrete anche chiudere il diciamo sia il link con youtube sia quello con la videoconferenza spero di esservi stati utili arrivederci